denodo è un'azienda che opera nel settore data management lo fa da sempre da quando è nata è nata nel 1999 spagna in galizia in particolare per l'intuizione di un professore di informatica dell'università della corugna che è l'attuale CEO di denodo quindi è rimasta questa questa impronta originaria e da quando è nata si è concentrata su una soluzione data management quindi data manager un termine molto generale quindi che incorpora anche temi di data integration data governance e lo ha fatto nello spirito delle cosiddette architetture logiche cioè essenzialmente l'idea è quella in un mondo in cui i dati sono sempre più distribuiti più eterogeni di realizzare un'integrazione connettendosi direttamente alle sorgenti dati laddove queste sono piuttosto che collezionare preventivamente i dati come si fa diciamo nella data integration per così dire tradizionale no penso al data warehouse al data lei quindi io i dati li preelaboro li porto preventivamente da qualche parte e poi quella parte dove li ho portati diventa un po' il punto unico di accesso l'approccio di denodo è più generale più flessibile nel senso che semplicemente connette tutte le sorgenti dati che possono includere anche quelle tradizionali ovviamente anche data browser data lake ma senza richiedere un'ulteriore come dire replica del dato quindi io posso costruire un punto unico di accesso che è un punto unico di accesso logico dove sono rappresentati i dati ma i dati li vado a prendere solo nel momento in cui questi sono effettivamente richiesti tutti i primi a quindi il modello iniziale è un modello che è rimasto assolutamente costante nel tempo cioè l'idea come ti dicevo di queste che adesso vengono chiamate architetture logico o logical data integration o basati sull'idea della connessione piuttosto che sulla collezione ma tutti i primi anni dello sviluppo di denodo sono stati spesi nel come dire ingegnerizzare la nostra soluzione in modo tale che fosse una soluzione di classe enterprise quindi che andasse bene indipendentemente dalla dimensione dell'azienda che lavore che la potesse adottare dove questa dimensione poteva crescere a dismisura idealmente no quindi la capacità di integrare dati indipendentemente dalla quantità dalla distribuzione geografica dalla complessità da tutti i vincoli di riservatezza perché ovviamente se me scusa mi sa meglio di me che io potrei costruire in generale non solo nella data integration un bellissimo modello di riferimento elegantissimo perfetto che poi lo metto in pratica e offre delle per fermate delle prestazioni tali da essere di fatto inutilizzabile come se io creassi una bellissima macchina con un nuovo una nuova alimentazione comodissima che però non fa più avrebbe che avesse un'autonomia solo di 20 chilometri una velocità massima di 30 bellissima l'idea peccato che avrei creato qualcosa di totalmente inutilizzabile nel mondo dell'informatica in particolare dei dati e rischio è questo che io crea un bellissimo modello di riferimento che poi nei fatti però diciamo non rende praticabile la soluzione perché magari è difficile da utilizzare da comprendere lenta non non offre le prestazioni che chiunque vorrebbe e giustamente si si aspetta siano disponibili allora tendenzialmente ora al di là di diciamo delle delle considerazioni sui costi no è chiaro che la nostra soluzione o in generale il tema della data integration è tanto più appetibile quanto più sono diversi dati dei quali la realtà l'organizzazione e l'amministrazione ha la necessità di poter utilizzare è chiaro che faccio un caso un caso limite che credo neanche sia realmente eh esistente se io avessi una organizzazione privata pubblica che avesse un'unica applicazione informatica che facesse tutto quello che deve fare quindi avrei potenzialmente un'unica sorgente in grado di produrre i dati beh in questo caso no il tema della integrazione già di per sé capisci che ha poco senso cioè tutti i dati sono gestiti da una sola applicazione stanno tutti lì mi aspetto che questa applicazione mi consenta di vedere questi dati eh in con le sue funzioni native e e quindi io non debba avere bisogno di altro è chiaro che più invece mi allontano da questo scenario quindi tanto più ho eh eh applicazioni interne che che gestiscono ambiti funzionali diversi sono la contabilità l'accettazione il laboratorio di analisi vera e proprio la cartella clinica eh la schedulazione dei posti letto la turnazione del personale quindi tanto più ho esigenze di questo tipo e ciascuna di queste esigenze sarà supportata da uno o più applicazione che a loro volta gestiranno e produrranno un certo insieme di dati allora è chiaro che più questo questo tipo di scenario si complica quindi più grande eh magari un'organizzazione sanitaria che ha più sedi sul territorio magari che le ha addirittura su più paesi nel mondo eh quindi ha diciamo tutta questa complessità inizia a moltiplicarsi è chiaro che il dell'esigenza di integrazione a questo punto diventa non più un'esigenza ma diventa un vincolo cioè se io non sono in grado di mettere insieme questi dati perché devo capire come sto andando devo fare devo provare a prevedere qualcosa devo controllare i miei costi devo operare sempre al meglio devo garantire le migliori cure è chiaro che la diciamo una soluzione di integrazione dati che non sia ottimale rischia di rendermi questo compito estremamente gravoso se non impossibile se poi pensiamo in un mondo in cui come quello sanitario eh e ritorno al tema no del fascicolo sanitario elettronico dove io devo integrare dati che non solo sono diversi ma che appartengono a eh entità realmente diverse ad amministrazione a liga lenti di come per usare un termine eh anglosassoni diversi quindi diversi ospedali diverse case di cura diversi laboratori di analisi eccetera eccetera io ho un ulteriore livello di complessità in più perché in questo caso non è solo una complessità tecnologica di integrare al mio interno dati che sono gestiti da sistemi diversi ma la necessità di integrare i dati che appartengono proprio dal punto di vista dell'appartenenza della titolarità a soggetti diversi eh è chiaro che io a quel punto tutta il tema della governance del quale vi dicevo assume un significato ancora più profondo perché sto prendendo dati dei quali io non ho la responsabilità e no è come se eh non lo so nel mondo familiare inizia avessi bisogno di qualcosa che appartiene a nuclei familiari diversi a soggetti esterni per cui se li voglio utilizzare devo stabilire una sorta di contratto formale o informale perché chi mi fornisce in questo caso dei dati vuole avere giustamente la garanzia che i dati che ti sto fornendo siano utilizzati nel modo corretto perché comunque la responsabilità resta no di chi quel dato possiede e quel dato controlla nel campo sanitario questa è un'esigenza fondamentale che è veramente alla base del fascicolo sanitario se ne parla tanto no ad oggi se io sono stato in cura tanto tempo presso un ospedale sono in vacanza e mi sento poco bene devo andare in un altro ospedale beh se quell'altro ospedale non ha la possibilità rapidamente di avere tutta la mia storia clinica probabilmente non è in grado di agire o peggio ancora di agire nel modo sbagliato tutti i temi si vedono nei film appena entri in un ospedale ti chiedono allergie cose varie o meno pensa se tutte queste domande in realtà non fossero più necessarie e quindi non sarebbero la risposta non sarebbe più basata sulla memoria del paziente ma siano ottenibili attraverso un unico punto di accesso a un dato dove io ho la certezza che certe patologie certe allergie ci siano non ci siano piuttosto che affidarmi alla memoria del paziente che magari in quel momento è in una situazione tale in cui le risposte che dà non sono attendibili l'approccio di denodo come dovrebbe essere secondo me l'approccio di chi si occupa ai dati di integration è essenzialmente agnostico il dato diciamo noi ci occupiamo di integrare e consegnare i dati a chiunque abbia bisogno per farci tutto ciò che vuole senza una specifica connotazione di dominio no perché poi alla fine il significato viene dato da chi utilizza il dato in base ai suoi obiettivi in base a come decide di modellare eventuali ulteriori dati a partire da quelli esistenti eh questo non vuol dire ovviamente che non non si abbiano eh esperienze in in ambito sanitario eh ne abbiamo eh alcune a livello internazionale in particolare il National Institute of Health eh che è un una un'organizzazione eh ovviamente diciamo appartenente alla la government come si come si usa a dire nelle multinazionali quindi il settore pubblico americana e poi abbiamo anche eh il il National Service eh della Scozia eh quindi due istituzioni anche questa eh sempre in ambito governativo quindi sempre parliamo di sanità pubblica anche se sa meglio di me insomma l'accezione un po' diversa a seconda dei diversi paesi e e quindi sono due esperienze dove il dato un dato particolare perché poi il dato sanitario sa meglio di me molto particolare per la riservatezza per le i vincoli in termini di privacy per l'eccessiva distribuzione e la nostra vita sanitaria eh come dire ahimè sperando che sia la più semplice possibile però normalmente si articola in tantissimi punti diversi di contatto no? Dall'analisi clinica si spena di non vero ma fare a interventi eccetera eccetera quindi il mondo sanitario e pensa anche per esempio a tutta l'evoluzione della telemedicina quindi dell'assistenza a distanza la tensoristica e i dati quindi è un tema è è un ambito estremamente estremamente caldo e e in rapida progressione però ecco ripeto eh non abbiamo una focalizzazione per come normalmente si intende ma per contro abbiamo delle esperienze interessanti anche in questo ambito se posso un minimo di diciamo di storia su quello che è accaduto e sta accadendo in Italia tu sai che eh diciamo già da tempo o meglio era stato tempo fa già ipotizzato no? E' creato l'esistenza di questo fascicolo sanitario elettronico che rappresentava un po' il come dire la la storia di ciascuno di noi dal punto di vista della eh diciamo del nostro contatto la nostra relazione col mondo sanitario no? Quindi ogni cittadino in teoria con il fatto con il fascicolo sanitario elettronico aveva in un un unico punto tutta la sua storia sanitaria. Dico in teoria perché questa cosa purtroppo per forse immaturità forse perché era diciamo un tentativo all'inizio molto ambizioso non ha avuto tutto il successo che si sperava per tanti motivi perché eh mancavano dei reali servizi per il cittadino associato a questi dati quindi non c'era tutta no questa questa voglia per il cittadino esigenza di di diciamo di accedere a questo fascicolo sanitario elettronico perché tendenzialmente poi non c'erano servizi associati. C'erano dei problemi architetturali non c'era un vero standard quindi come un'idea molto buona forse nata in un momento in cui il mercato era ancora o diciamo tutto l'ecosistema dati non era ancora così maturo. Sono state poi invece recentemente pubblicate le linee guida per quello che sarà il fascicolo sanitario elettronico due zero quindi come dire prendendo atto di quelle che hanno state le difficoltà creando un impianto eh differente più moderno basato su alcuni standard internazionali soprattutto per quanto riguarda l'integrazione fra sistemi diversi perché ripeto siamo in un mondo profondamente distribuito già lo siamo normalmente quando parliamo di dati nel mondo sanitario pensa soprattutto all'Italia a quanto è distribuita l'assistenza sanitaria da quella pubblica a quella privata agli ospedali e le case di cure laboratori di analisi visto che è impensabile ipotizzare che tutti possono avere una stessa applicazione eh il tema dell'integrazione è estremamente forte. Come dicevi te quali dati? Beh veramente se io voglio eh in qualche modo rappresentare la storia di un paziente che non è una rappresentazione solo poi ad uso del paziente perché magari vuol sapere vuol avere traccia no di tutta la sua storia sanitaria ma pensa dal punto di vista sanitario stesso il fatto che io ovunque vado e ovunque mi trovi abbia con me idealmente il mio fascicolo sanitario elettronico quindi chiunque mi debba assistere eh o mi debba erogare delle cure può sapere la mia storia in maniera in maniera completa. Eh i dati sono tantissimi perché sono dati che eh diciamo afferiscono a modalità diverse di erogazione no di quello che è poi la cura verso il paziente eh dalle dagli esami di laboratorio a quell'interale cartelle cliniche propriamente dette ospedaliere a tutta il dato della sensoristica nel caso per esempio qualcuno sia assistito remotamente tu hai citato prima il covid il covid ha dato un impulso fortissimo a tutto il tema della telemedicina che è un settore in in grande defermento perché si è visto no che laddove inizia essere difficile lo spostamento laddove ci sono condizioni per cui magari c'è una un aumento vertiginoso delle persone da dover assistere è chiaro che poterlo fare remotamente è sicuramente un vantaggio questo produce tantissimi dati che sono ovviamente utilizzati come si dice in real time no perché io se monitoro un paziente a distanza eh devo poter intervenire nel momento succede qualcosa no che che abbia abbia segnale di un qualche evento potenzialmente avverso ma poi tutti questi dati diventano un patrimonio fondamentale per tutte le analisi successive per essere integrati con dati tipo demografico eh sociali ed economici per creare ad esempio dei modelli non so predittivi piuttosto che dei modelli che fotografino l'andamento di un fenomeno come è andato pensa già lo stesso al covid no quanto noi giornalmente eravamo affamati di dati che fotografavano come la la l'epidemia la pandemia si stava sviluppando sul nostro territorio quali erano le differenze perché in dei posti era più i contagi erano più elevati e così via eh quindi il mondo sanitario è veramente un mondo che produce una quantità oserei dire potenzialmente smisurata di dati ma anche molto diversi fra di loro perché poi alla fine il valore nell'uso del dato è è la possibilità di mettere insieme i dati che rappresentano no fotografie diverse di una stessa cosa eh no quando tu pensa al cittadino paziente no tu hai il dato che lo caratterizza demograficamente economicamente socialmente eh quelli ovviamente dal punto di vista medico sanitario eh ci sono tantissimi dati no quanto più io riesco facilmente e rapidamente a mettere insieme i dati tanto più potenzialmente aumenta il valore che io da questi dati posso possa estrarre che poi sai un altro tema diventato quasi uno slogan si parla tanto del valore dei dati ma poi in realtà il valore non è nei dati non è una proprietà strutturale del dato ma il valore viene fuori nel momento che io utilizzo i dati per fare qualcosa di idealmente utile eh quindi l'uso dei dati sì è un uso sia dal punto di vista della ricerca epidemiologica cioè per esempio eh mettere insieme dati come dicevo prima no che siano sanitari con altri dati che rappresentano informazioni demografiche territoriali per capire dove un fenomeno dove un fenomeno diciamo epidemico piuttosto che insomma si sta sviluppando su quale territorio con quale previsioni di allargamento poi e e questo diciamo è una sorta di analisi vedi la come una sorta di reazione a un fenomeno che sta che sta vivendo non pensa solo al covid quanto si è speso in analisi per capire no da dove era partito e come si stesse sviluppando poi c'è tutto l'ambito della dei trial clinici cioè immagina tutta l'analisi del dato derivante dalla sperimentazione eh di nuovi farmaci una cosa che è emersa e che l'abbiamo vissuta tutti no con eh ai tempi del covid e quanto rapidamente sia riuscita a sviluppare no i i vaccini che poi tutti abbiamo in qualche modo consumato e parlavo tempo fa con il direttore del del dipartimento di telemedicina e loro mi diceva che è un ambito fortissimo di analisi eh di approfondimento è quello di capire come utilizzare i dati della sensoristica che vengono prodotti dai sistemi di telemedicina affinché questi dati siano a supporto del processo tipico no di validazione di un farmaco è un processo molto lungo ancora basata sull'osservazione sui campioni eh se ti ricordi come si è sviluppato al di là della compressione temporale dello sviluppo dei vaccini ma alla fine no c'era diciamo un gruppo di persone che si era sottoposto che si sottopoleva ai test delle prime versioni del vaccino si verificavano eventuali eventi avversi e e si agiva di conseguenza in quel caso del covid è stato fatto uno sforzo immenso anche economico che probabilmente non può diventare la norma no per cui c'è tantissima tantissimo interesse su capire come usare un patrimonio immenso di dati che sono quelli che vengono appunto da tutto il monitoraggio e l'assistenza a distanza per capire se questi eh possano essere e in che modo utili a ridurre magari il ciclo tipico di validazione di test di un nuovo farmaco calcolo e parliamo di orizzonti temporali tradizionali che sono di moltissimi anni spesso anche più di dieci anni quindi già un abbattimento non so del venti per cento beh vuol dire risparmiare due anni nel test di un nuovo farmaco e magari può essere un farmaco salvavito è fondamentale è chiaro che qua ora diciamo viene invece completamente meno almeno diciamo se ipotizziamo un mondo totalmente edico tutto il tema no del tradizionale che tu c'era via retail delle informazioni marketing live cioè marketing live che nel senso di qui non è che ci interessa vendere qualcosa lasciamostra il mondo la salita privata però qui parliamo di un contesto dove l'obiettivo principale è veramente salvare preservare la salute e salvare le vite a vedere il bicchiere mezzo pieno anzi totalmente pieno se da un lato è stato un fenomeno drammatico dall'altro ha mostrato che molte cose forse si potevano fare no al di là di quello che era il sentimento comune pensa tutto al tema della digital transformation dello smart working no prima del covid tutti cercavano in qualche cioè in realtà non si era non si era progrediti come ci si aspicava perché sembrava che non fosse possibile poi da un giorno all'altro c'è stata un'accelerazione no sul concetto di digitalizzazione e si è visto che si poteva fare l'altra cosa che ha mostrato indirettamente che ci si accorti innanzitutto è esplosa questa fame di informazione o di conoscenza è stato un fenomeno così dirompente che tutti volevamo sapere come andavano le cose e per sapere come vanno tu devi misurare e quindi raccogliere dati ci si è anche accorti che in realtà i dati ce ne sono tantissimi eh si parlava anni fa nel duemiladiciassette quando l'economist citò no il famoso slogan eh data is the new oil per dire che i dati sarebbero stati il nuovo petrolio ora al di là forse il petrolio non è l'analogia migliore però il senso è quello no siamo in un mondo sempre più digitale e quindi all'aumento della digitalizzazione aumentano i dati prodotti la quantità di dati eh quindi c'è tantissima come si dice offerta di dati eh la domanda sta crescendo c'è la domanda come dire sta inseguendo perché si è preso atto eh diciamo in tempi così ridotti di questa esplosione dei dati che spesso veramente non si sa ancora del tutto cosa farci però sicuramente siamo in un mondo in cui il problema non è più la disponibilità del dato anzi spesso ce ne sono veramente tanti e ci sono indagini fatte da analisti che dimostrano che poi l'uso me la percentuale media di utilizzo dei dati disponibile è molto bassa rispetto all'intero patrimonio informativo del quale dispongono le aziende e le amministrazioni per cui in questo caso in questo siamo in un momento in cui devo dire la creatività sta nel modo diciamo di usare i dati no di capire questo immenso patrimonio come possa essere utilizzato per prevedere per capire cosa eh questo è un tema che è veramente diciamo estremamente fluido e molto dinamico perché fenomeni nuovi nascono ogni giorno ogni fenomeno fenomeno nuovo si porta con sé l'esigenza magari di comprenderlo al meglio e quindi l'esigenza che sta avvenendo è poi quella dove si colloca l'offerta di denodo è come faccio io rapidamente con semplicità eh assorbendomi tutte le complessità tecniche a rendere disponibili dati a chiunque li voglia utilizzare fino a un po' di anni fa quando si parlava di integrazione dati gli si dava sempre una connotazione molto tecnologica no come se il problema fosse nel eh creare queste connessioni con delle fonti dati diverse eteriogene per formato per tecnologia o meno questo sicuramente è un tema caldissimo ovviamente ma è un tema diciamo da tecnologi in realtà eh l'approccio che sta ehm che si sta adesso eh attuando è quello di mettersi nei panni di chi deve utilizzare i dati e chi utilizza i dati eh l'utilizzatore del dato è un po' come il guidatore dell'auto di un'auto no? Non è come il meccanico chi guida un'auto vuole un'auto sicura semplice che lo porti dove deve andare che consumi poco che sia comodo eccetera eccetera eh che è un punto di vista completamente diverso rispetto al punto di vista che magari si aveva un un bel po' di anni fa dove il diciamo eh l'interlocutore tipico era il super tecnico adesso nell'ambito di integrazione dati ma mi vorrebbe dire nell'informatica però insomma parliamo di di integrazione dati eh l'interlocutore è è l'utilizzatore del dato che ripete è una persona che ha una grossa competenza sui dati ma non necessariamente una grossa competenza tecnica come dire un pilota che sa guidare benissimo la macchina ma che ragionevolmente se il motore si rompe non è l'uco lo deve riparare e questo e questo sta portando a un cambiamento anche da chi diciamo si occupa di offrire soluzioni in questo campo di di costruirle di far sì che questa semplicità sia effettivamente effettivamente speribile da parte chi poi di di chi poi deve consumare i dati eh questo fa sì che chi il consumatore del dato come lo chiamiamo noi è sempre più consapevole della sua della sua potenza e del fatto che lui può chiedere giustamente e pretendere da chi vende soluzioni di questo tipo che lui possa concentrarsi totalmente su ciò che deve fare senza dover imparare a governare una soluzione che invece dovrebbe essere quanto più semplice possibile esattamente come quando io salgo in macchina accendo il motore idealmente adesso no si inizia a diffondere macchina con cambio automatico metto in drive vado non è più l'auto di una volta che doveva richiedere un'esperienza tecnica e una 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 complessità della guida adesso siamo pensano a tutto il tema delle auto a guida autonoma anche nei dati paradossalmente no si stanno anche nel mondo dell'integrazione dati si stanno eh affermando dei paradigmi per esempio il data fabric che è un tema che si sente molto cioè l'idea di soluzioni di integrazione dati che incorporino eh eh algoritmi di tipicamente di derivazione tipicamente del mondo dell'intelligenza artificiale con l'obiettivo di suggerire di aiutare l'utilizzatore del dato il consumatore del dato a selezionare i dati di cui ragionalmente potrebbe avere bisogno non un po' come succede con Netflix che ti suggerisce alcuni film alcune serie sulla base di quello che tu hai visto fino a quel momento quindi si sta andando molto nell'idea di essere di rendere la vita quanto più semplice possibile a chi utilizza i dati perché il suo obiettivo è concentrarsi sull'uso del dato non sulla sua gestione sì diciamo il tema della sicurezza anche qua sono ultimamente le cronache no ce lo riportano all'attenzione con i vari eh i vari eventi avversi che che verifichiamo la sicurezza è un termine molto molto ampio allora una è la sicurezza intesa come protezione cioè ci sono certi dati diciamo idealmente tutti i dati se devono essere protetti no esattamente come in casa nostra vogliamo che tutto sia protetto però diciamo la sicurezza ha una una parte per così dire tradizionale cioè la la vera sicurezza è il fatto che nessuno mi possa rubare i dati o che nessuno diciamo possa accedervi per fare cose che non dovrebbe che dovrebbe farci e questo diciamo viene indirizzato no da tutte le soluzioni in termini di cyber security security diciamo questa prima fase un po come la porta che io metto nel mio appartamento una porta blindata non posso se metto una porta blindata e poi lascio le chiavi sotto lo zerbino c'è qualcosa che non va però diciamo è proprio la protezione dell'accesso poi c'è un tema invece che secondo me è più articolato e più complesso che è quello legato alla privacy al dato sensibile al dato personale eh sul quale sa meglio di me insomma la la normativa si sta muovendo eh rapidamente dal GDP GDPR al data protection act insomma poi con tutte le differenze fra i vari paesi però più o meno tutti stanno lavorando e cercando di governare di dare delle indicazioni su quest'ambito questo è un ambito molto particolare perché da un lato non si vuole ovviamente precludere l'utilizzo del dato ma dall'altro giustamente si vuole far sì che questo utilizzo sia corretto sia rispettoso eh sia etico no quindi il fatto che certi mie dati personali non debbano essere utilizzati o che non siano necessari e e qui sì dal punto di vista di chi fa dat integration si entra in un mondo estremamente come dire pericoloso e e subdolo perché nel momento che io creo una soluzione o voglio creare una soluzione che si frappone no fra tutti i dati possibile immaginabile tutti i potenziali utilizzatori del dato perché sai io devo se voglio fare se voglio offrire una buona soluzione da l'integration non posso prevedere non posso dire che eh la faccio in questo modo perché ragionevolmente mi aspetto che i dati saranno utilizzati solo per questo obiettivo piuttosto che per quest'altro siamo in un mondo in cui l'esigenza di di analizzare il dato si modifica giorno per giorno quindi una una buona soluzione di data integration come eh ripieniamo noi di denoto deve essere una soluzione totalmente agnostica rispetto e da una parte a quali dati io voglio integrare e dall'altra a quale utilizzi ne voglio fare quindi questa estrema apertura in tutte le due direzioni fa sì che sia fondamentale poter garantire a seconda poi caso per caso no di come di quale sarà il dato e di quale sarà l'utilizzatore di poter comunque garantire che tutte le regole che governano la sicurezza la privacy la riservatezza del dato siano sempre garantite e questo è un ambito dove per esempio denoto spende tantissime risorse nel nella nel far sì che la soluzione sia totalmente configurabile e coerente con differenti contesti nei quali viene utilizzato per cui l'esempio tipico se lo stesso dato lo interrogo io magari avrò potrò vedere delle informazioni se lo stesso dato lo interrogo chi pene potrà vedere altre perché noi abbiamo ruoli diversi facciamo cose diverse e quindi è giusto che si vedano dati un dati un po diversi però è un tema caldissimo sul tutto questo tema che generalmente va sotto il cappello della data governance sta diventando in molti casi come dire lo stimolo e lo stimolo primario a modernizzare la propria infrastruttura dati quindi non è più il come si dice lo use case funzionale no voglio cambiare la mia piattaforma dati perché voglio avere maggior agilità nello so avere la vista unica del paziente piuttosto che la vista unica del cittadino del mio cliente ma spesso troviamo sempre più clienti che ci dicono io ho bisogno di una nuova soluzione perché ho la sensazione di non governare pienamente i dati che ho a disposizione governare in senso molto ampio non li conosco tutti non so esattamente da dove provengono non so chi li sta usando non so chi li ha usati per farci cose e così via ci sono alcuni domini a parte quello sanitario che nel caso si verifichi un evento che non si dovrebbe verificare se io azienda o amministrazione non sono in grado di dimostrare no che ho fatto tutto quello che potevo fare per mettere in sicurezza il dati non sono in grado di di poter dire chi ha fatto cosa e quando l'ha fatto beh in certi in certi scenari posso passare dei guai seri direi giustamente no perché se tu hai una grossa responsabile se tu hai la quindi gestisci tanti dati deve avere una responsabilità commisurata l'importanza del dato che gestisci grazie 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 grazie